Musica 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 Poi metto questi 5 qua e faccio la chestplate Tac Poi mi faccio un'arma al volo Cioè mi faccio l'ascia in Fe Ah no costa 24 Ok Allora mi metto l'armatura intanto E E e e e Capiamo un attimino Lì c'è un bomber che sta provando a buildare verso di qua Ok perfetto Allora con questi Con questo oro qua prendiamo qui Quindi prendiamoci l'ascia al volo Ci facciamo anche del cibario con questi Perfetto Olla Fatto Ciao bombero Saliamo saliamo Ok Allora lui sta provando a buildare ancora più in alto Adesso Ok Dove è andato Non è caduto Non è caduto Siamo seri Ok Ma anche qua c'è del diamante Uh bomber Uh bomber Ucciso 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 male Ucciso male Mangio Ok Così mi rifluo di vita E boom Ok Gli ho fatto saltare l'uovo praticamente Dove è andato Non capisco dove si è andato rega Intanto c'è del diamante Che si può prendere molto A molto comodo Uh eccoti Ciao bombers Ciao bombers Eccoti qua Ok Perché con un piccone d'oro Ma what the fuck Ciao bomber Ciao bomber Buon viaggio verso l'aldilà Fatto fare questo qui rega Che ha provato a lasciare un attimino verso di noi Dobbiamo pensare un attimino a cosa fare Abbiamo un altro 5 di ferro Di diamante scusatemi Quindi Posso farmi un'altra parte di armatura Io me la faccio più che volentieri Mi faccio i gambali Poi con questi 8 qua di oro Mi faccio anche una golden apple E mi metto questi gambali al volo E mi sistemo un attimino di inventario Quanto oro abbiamo? Zero Perché l'ho sfruttato tutto quanto adesso Mi prendo questi 5 qua Provo a tornare un attimino qua Mi prendo un altro po' di diamante E da chi proviamo ad andare? Dal bomber di là di lato? O da qualcuno? Io andrei prima Io mi farei prima Un attimino Un'eliminazione diretta Verso tutti quelli che ho Vicino a me Ci facciamo dei blocchi Perché li ho finiti Mi è proprio andata a culissimo Piccone in diamante Rega E si prova la lasciata Dal bomber qua a fianco Che probabilmente Starà iniziando già a bardare Qualcosina sicuramente Io non ho ancora bardato niente Rega Ma sapete come gioco ormai le egg Io rega Se non vado a cazzo duro Per me non è una bellissima Egg Wars di The Mark Quindi non bardiamo come sempre Rega E proviamo l'attacco Al bomber qua a fianco Ok non ho la più di poi di idea Ok il purple Va bene Ciao purple Deep Uh rega Bam Ok le ho dato un pochino di danno E Boom Anche il tuo uovo bomber Ciao bomber Ah ma lui spamma Spamma di spada Ok Ok Boom Fuori anche il purple Fuori anche il purple rega Fatto fuori un altro Bomba Intanto qua si Si attiva il google E niente Allora prendiamoci anche il suo oro A sto punto rega Fuori un altro Vuol dire che questo qui Ha un collegamento diretto Verso questa piccola Raga ma quanto è bella sta mappa Come orgasmare sulle mappe di minecraft Questo video Perché è troppo bella Madonna No Uh Ok No Infamone Ma no sto qua rega non Eh si e poi From where Ma da dove Ma da dove Cioè gli ho scritto goodaxe E gli scrive thanks Rega Cioè come farsi prendere per il culo dagli hacker Questo qui Questo video Scandaloso Eh intanto Ma dai ma come si fa a giocare in questo modo Ogni volta Poi voi mi lamentate magari che nei titoli ci metto hacker Ma Cioè è palese raga è scandaloso È una rottura anche di palle dopo un po' Vabbè Allora ci facciamo un pochino di diamante qua Il possibile che possiamo fare Però questa è una rottura di palle gigantesca Che chiamo Cad and play Is red Ma dai Ma dai Ma che palle Rega sarà minimo la quarta parita che registro oggi Da un po' mi cadono davvero le palle Registrare le egg wars Perché cubecraft prima era davvero un bel server Ma che cazzo fa quello Ah perché L'hack li legge Il villager come per esempio Player o robe del genere E quindi probabilmente lo attaccava Ecco Quella lì è il più grande La più grande mossa Proprio palese Per dimostrare che quelli avevano le hack installate Il red dove si trova come isola Non ne ho la propria idea Però vediamo Andiamo a prendere un attimino Ancora un po' di diamante Da quest'isoletta qua Perché è l'unico posto dove posso stare Un attimino E mi faccio La spada in ferro Riesco Anzi riesco a farmi tra un pochino Se attendo con molta pazienza Lascia ancora in ferro E tutto quanto Oddio tutto quanto Una parte di armatura in ferro Ma rega il red è stato cacciato È stato cacciato il red Ah no Was killed by the mark Ah è caduto Probabilmente Madonna che top Vuol dire che non c'è più l'hacker Che bene essere Quindi posso provare a tornare al centro E prendi i diamanti Bam Che bello raga Ma che bello Mi sto facendo full ferro E mi sto facendo un arco con punch Quindi questo oro qua Magari lo spreco Così Facendo un sacco di frecce Questi unici qua Mi faccio Il piccone Quello in diamante Ho fatto un calcolo Rega per i materiali Praticamente Quasi perfetto Contando che comunque Non ho il piccolo al massimo Non ho una ascia perfetta Però comunque Ho degli ottimi materiali Per adesso Allora vediamo Qua potrei farmi Una chest Di riparazione Possiamo chiamarla così Anche saldata un altro uovo Questa cosa va Più o meno bene Ci facciamo questa chest qua Per salvaguardarci un attimino Tutti quanti i materiali Nel caso io morissi La mettiamo per esempio Qua in alto E ci mettiamo tutte quante Queste robe qua Ci mettiamo queste frecce Per esempio Più questi blocchi E qualcosina Di cibario Devo tenere d'occhio un attimino Il giallo c'è ancora È nell'isola fianco al pink Quindi io Quasi quasi Proverei l'attacco Nei confronti del giallo Però dall'alto Perché allora Il giallo è tecnicamente Quello che ha appena attaccato Anche il ciano Quindi Con molta probabilità Lui è fuori base Sto controllando il suo uovo Ed è solo con la sandstone Quindi va benissimo Tanta tanta roba Quindi io proverei già Attaccarlo Poi rega mi sto chiedendo Perché la scritta green È con un fonte diverso Rispetto alla scritta orange e yellow Wow Fa niente Questi qua sono i viaggiornimentali Di The Mark Rega comunque Buildiamo un attimino Verso l'alto Stile Bedwars E dovremmo essere quasi arrivati Sulla sua isola Ok ci siamo Ci siamo quasi Rega siamo quasi Vicini al suo uovo Anzi togliamo quasi Perché Bum 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 Bam Fuori un altro uovo Rega mangiamo La nostra bellissima Carne E con quest'oro Qua ci facciamo Delle golden apple Dove è un villager Più vicino Che eccolo qua Ci facciamo delle golden apple Al volo Perché così Ci pariamo un attimino il culo Ci sta onesto rega Ok lui sa che io sono qua Lui sa che io sono qua Ma lui non sa che io ho un arco Sono molto incastrato rega Non facciamoci vedere Che abbiamo l'arco rega Ok adesso Boom Cadi No è caduto verso il basso No rega Si è mosso di troppo poco No 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 Mai sporgersi così tanto Marco Mai sporgersi così tanto Sarà una lunghissima battaglia di No no ho flippato Ho flippato l'arma Ho flippato l'arma Ho flippato l'arma Con un blocco Sono un idiota Sono un idiota Perché ho fatto un fail Molto pesante Che non mi sarei mai aspettato di fare Questa cosa non è andata molto bene rega No 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 Non va bene Non va bene Non va bene Quindi qua devo fare solo una cosa Devo farmi altri blocchetti Questo qua va sicuramente qua Tanto è inutile che continui a frecciarmi dalla tua isola bomber Perché non mi fa assolutamente niente Cioè questo è il tuo dilemma che non è ancora capito Basta frecciarmi Ok rega Ce l'ho fatto arrivare al centro E mi sa che lui non mi ha nemmeno visto Che io sono Mi sono mosso Ok l'ho colpito No zero Ma in tutto ciò Allora ci starei fullando di materiali Sta roba qua non va fatto bene rega Perché io sono quello messo peggio di armi Quindi sta cosa qua non mi piace Rega è arrivato Rega è arrivato Ok Ok Boom Boom No Ok Ok Boom 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 No È incolpibile È incolpibile Oh Fuori un altro Fuori un altro Bombers Perfetto Mamma mia come me la sono giocata raga Stra stra tattico Ora ci manca l'1v1 con l'orange Però io non sono messo bene materiali Questa cosa qua rega Purtroppo è così A meno che io lo prenda alla sprovvista A meno che io lo prenda alla sprovvista Dall'alto della sua isola Però bisogna essere davvero molto molto tattici Soprattutto devo prendermi ancora qualche altro materiale Soprattutto tipo diamanto queste cose Quindi studiamoci un attimino Dove si trova lui Lui si sta rifullando i materiali E tutto quanto Io sono a 15 pezzi di diamante Questo vuol dire che è una spada Ma vorrei un'ascia Vorrei un'ascia Perché secondo me mi troverei meglio nello scontro 9v1 E lui dov'è che è? È ancora chiuso in casa Va bene Allora è là in casa Raga io vado da dietro Mi muovo tanto shiftato E lo sbatto giù con l'arco Quasi quasi Raga sono qua da lui ma non so dove sono Io lo voglio sbatter giù lo voglio sbattere con l'arco Si spostati Si 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 così si così si così Mamma mia mamma mia che genio Mamma mia che genio Mamma mia che genio Mamma mia che genio Mamma mia che cosa ho fatto Mamma mia invisibile raga Ero invisibilissimo Mamma mia che spettacolo Mamma mia che vittoria Bellissima Bellissima Mamma mia bellissima davvero Quindi ragazzi per questa bellissima Per questa bellissima Ego Se tu mi raccomando Spero che vi sia piaciuto Ascoltate il video Iscrivetevi al commento Iscrivetevi al commento E se non è stato fatto Noi ci vediamo in un prossimo video Da Marco è tutto Bella